La signora Sara Netanyahu, il Presidente del Consiglio Enrica Letta e la signora Gianna Fragonara. E' per me un'emozione molto forte quella di essere qui tra voi, di aver potuto ascoltare le parole così importanti e così impegnative e quella di poter rivolgervi un pensiero e un augurio in questo giorno, in questa festa così importante. Quando gli ebrei insorsero contro il tentativo di dissacrare il Tempio di Gerusalemme, difesero il carattere di centro del monoteismo ebraico, di preservazione della nazione, della libertà e, in definitiva, della stessa identità. Quel momento, oggi momento di festa, di festa così bella, impegnativa, festa che ci accomuna tutti, è un momento dal quale io voglio trarre, caro Bibi, una considerazione che vale per tutti gli italiani di oggi. Ho avuto modo in questi sette mesi, lo sapevo già, ma in questi sette mesi ho avuto modo ancora di più, di capire e apprezzare l'importanza per l'intero Paese della comunità e delle comunità ebraiche italiane. È stato detto, un tempo innanzitutto di crisi economica, di perdite di posti di lavoro, di crisi sociale, un tempo di paure, paure per il futuro, per il futuro dei propri figli, con la disoccupazione che cresce, la disoccupazione dei giovani, in particolare, che crescendo ci rende così paurosi per il nostro futuro, per il futuro di tutto il nostro Paese. Ma è proprio in questo tempo in cui è facile che queste paure, queste difficoltà alimentino le spinte dell'estremismo, dell'odio, dell'intolleranza. Napolitano ha fatto un governo ogni una notte, si sono messi in tre a fare un governo ogni una notte, devo fare in tre, ecco qual è, ecco qual è il gradimento. E io sono qua formalmente a dirgli che abbiamo pronto l'impeachment per Napolitano, se ne deve andare. Dobbiamo fare pulisgommelare le macerie di questi partiti che non ci sono più, partiti a cui noi daremo l'estrema unzione. Fine! Fine! Siamo in una piazza storica, siamo in una piazza che si chiama Vittoria, non è un caso, non è un caso. Gli ultimi che hanno parlato in questa piazza meravigliosa sono stato Pertini, che ha dato inizio a una grande rivoluzione, partita da Genova contro il governo Tambroni, se vi ricordate. Se fosse vivo sarebbe qua anche lui a parlare. Fantastico! È l'ultima, è l'ultima! Grazie! Grazie! Là in fondo, venite a me! Venite a me! Noi siamo interessati alle cose vere che importano alla gente. Letta e Alfano devono spiegare agli italiani non solo l'inaccettabile ritorno sotto falso nome della tassa sulla prima casa, ma devono anche spiegare che è cambiato tutto. Non c'è più un governo di larghe intese con noi, ma c'è un governo di centro-sinistra, anzi di sinistra-centro, con Alfano che fa da ruota di scorta alla sinistra. Dopodiché viene la nostra proposta, quella che ha fatto Alfano, scriviamo il nuovo programma in maniera semplice ma impegnativa, comprensibile per i cittadini e su cui i partiti si impegnano a realizzarlo entro un anno, questo programma per l'Italia che nel 2018 ci impegniamo a realizzare. La maggioranza c'è, l'abbiamo visto con chiarezza. Così magari anche la stampa, facendo degli esempi, l'abbiamo chiedendo di più. Il prodotto è di nuovo, le giunte sotto i ricomuni sui dati, è un accordo al peso, che ovviamente dovrebbero deputati, le partite di bilancio che sarebbero pagare sempre. Non si prevede nessuna cosa. Ma questo oltre che è sempre un libro di maggiore democriticità per un volume, ha sicurità, ma è un obiettivo, se abbiamo visto sempre. Grazie, la notte professa, a causa di intervenire dalle gradici di maggioranza, quello che è, c'è il denaro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.